Il grande flop del grande fratello. Sembra che ultimamente il grande fratello stia appassionando sempre meno spettatori. Il pubblico è sempre meno appassionato per le dinamiche piatte e che si ripetano continuamente. Infatti proprio nella scorsa puntata gli ascolti sono diminuiti e gli argomenti trattati hanno deluso e il conduttore Alfonso Signorini nonostante sua voglia di fare viene spesso criticato. Insomma tanti stanno incominciando a pensare che quest'anno il grande fratello in realtà è un vero grande flop. Anche l'ultima puntata andata in onda hanno risuscitato il famoso triangolo Mirko-Greta-Perla. Perla-Greta-Mirko. Stancando il pubblico perché il tutto è sembrato forzato. Cosa c'era da chiarire tra Mirko e Greta? Se i due si erano già lasciati è sembrato tutto un po' ridicolo. Insomma questa edizione del grande fratello viene giudicata un po' un flop per i contenuti che non interessano più di tanto e che soprattutto non entusiasmano i telespettatori. Anche Pier Silvio Berlusconi non sembra molto soddisfatto e se il conduttore non riuscirà a risollevare il programma sarà certamente sostituito con qualcuno con più fantasia per i futuri reality di Mediaset.